Ma non sarà troppo sofisticato Non credi che la gente passerà di qui e non noterà quel cartello? Non può parcheggiare qui Ecco tolto il pensiero, ho trovato la macchina Basta sistemare le sospensioni La frizione, l'impianto elettrico, la trasmissione e la scatola dello sterzo Quanto? Solo 4800 dollari, rifacendo le fasce elastiche, la marmita e altre sciocchezze